Settembre si vuota, le scuole riaprono il 14, effettivamente qua molti operatori del settore turistico alberghiero chiedevano di posticipare la riapertura delle scuole perché avrebbe facilitato una stagione che è cominciata in ritardo, praticamente il mese di giugno non c'è stato. Inoltre le scuole avrebbero avuto maggior tempo per organizzarsi anche con le classi perché ci sono dei problemi anche per il riperimento delle classi visto le norme del distanziamento e si rischia che invece il 14 molte scuole non siano effettivamente pronte rispetto alle linee guida che sono state emanate dal governo. Quindi sarebbe stato in Toscana sicuramente meglio ripartire dopo le elezioni, visto che poi ci saranno dei giorni, almeno il giorno del lunedì e del martedì 21 e 22 che resteranno chiuse perché dovranno allestire i seggi elettorali.